Come facciamo sempre per gli anniversari, abbiamo invitato, invitiamo maestri che sono vicini a noi, vicini alla Casa del Tango. Questa sera abbiamo dei maestri che abbiamo conosciuto, abbiamo avuto la fortuna di conoscere in Buenos Aires e che ci hanno dato una bellissima sensazione, una bellissima emozione e questa emozione che abbiamo vissuto con Manuela è stata allo spunto per dire, per il nostro compleanno, noi desideriamo avere con noi questi due amici e questa emozione e questa sensazione l'hanno vissuta, è stato bellissimo vederlo, tutti coloro che hanno partecipato alle lezioni in questi due giorni e sicuramente domani sarà la stessa cosa. Per cui io vi chiedo di accogliere con un grandissimo applauso come fa la Casa del Tango Riccardo Calvo e Sandra Messina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. che tutti abbiamo visto in Buenos Aires buscar, investigar, parlare con i maestri e oggi abbiamo la suerte di conoscere la casa la casa di tutti voi quindi io vi invito a lo siguiente che lo cumpla felice, che lo cumpla felice che lo cumpla felice, che lo cumpla felice è profondo non è importante, non è lì non è importante, non è lì non è importante, non è importante, non è importante non è importante, non è importante, non è importante non è importante, non è importante iscriviti al canale Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.